Campionato Coppa Italia di Serie D non fa alcuna differenza per il Potenza. Anche il Cerignola deve inchinarsi alla capolessa del Girone H nella sfida secca dei quarti di finale, giocata al Monterisi senza pubblico sugli spalti. Vince 2-0 in trasferta alla formazione di Nicola Ragno. La spunta con cinismo, organizzazione difensiva e anche un pizzico di fortuna nei confronti dei gialloblu, poco incisivi in fase di finalizzazione, e costretti ad abbandonare il sogno di raggiungere l'atto conclusivo della competizione nazionale. La corsa del Cerignola finisce la partita del Potenza, invece comincia col botto. Franza parte dalla panchina, Guadalupe e Siclari sono titolari. Il primo dopo due minuti crossa dalla corsia Mancina, il secondo indovina la soluzione al volo che batte a Bagnale. Strada in salita per i padrini di casa, orfani nell'occasione del suo giovane più rappresentativo Carannanti impegnato al torneo di Viareggio. Proteste cerignolane poco dopo per un presunto tocco proibito in aria. Sulla conclusione a botta è sicura di Longo, ma l'arbitro lascia correre. Lo stesso numero 9 degli ofantini a metà frazione fallisce clamorosamente l'occasione. Tutto solo davanti a Mazzolini. Buon momento per la squadra di Teore Grimaldi. Morra dalla media distanza, chiama alla risposta in corner il portiere ospite sugli sviluppi dell'angolo. Santeruso di testa impegna ancora all'estremo del Potenza. Insistono i gialloblu, meriterebbero il pareggio ma sono anche sfortunati quando di Bari, 10 minuti dall'intervallo, colpisce la traversa. Il Potenza resiste e conserva il gol del vantaggio a metà gara. Ripressa che si apre con la punizione di Guadaluppi disinescata da Bagnale. Dentro Herrera e Lausada ed è proprio quest'ultimo con un diagonale a sfiorare il gol che avrebbe portato le due squadre ai rigori. Entrano Pepe e Franza invece nel Potenza e sono proprio loro due a confezionare il gol del raddoppio. Il primo serve l'assist, il secondo fa centro con un esterno mancino di rara bellezza. Sempre decisivo il bomber brasiliano, infinito il repertorio di colpi mostrato in questa stagione. Vittoria così in cassaforte, i Lucani accedono alle semifinali dove affronteranno nella doppia sfida i Toscani del San Donato Tavernelle. Il Cerignola invece dovrà consolarsi con il campionato e la rincorsa al secondo posto attualmente di proprietà della Cavese. Il derby con l'Altamura di domenica prossima intanto è stato rinviato al 4 aprile. Gli Ofantini in pratica torneranno in campo il 25 marzo per sfidare in trasferta la Sarmese.